Spero di ringargogliarvi dei fili del microfono, benvenuti a questa tavola rotonda promossa su un tema che rischierà di essere abbastanza animato, che è quello dell'happy hour, del futuro dell'aperitivo e del ruolo che il vino può svolgere in questo momento di consumo. Abbiamo un panel molto qualificato che vado a presentarvi, cominciando dal fondo Mauro Lamparelli che è partner di Trade Lab, poi abbiamo Pierluigi Cucchi che è un barman di lungo corso ma attualmente è un formatore della CSE Consulting, Moreno Cedroni, chef stellato noto nel mondo, Laura Cagnetti che è un'altra imprenditrice che è direttore dell'Inside Lounge Caffè di Milano. Abbiamo Luca Basilico, Alessandro Cagliandro di Viralbit che è una società che fa ricerche sulla rete, abbiamo il dottor Filippo Cesarini Sforza che è il direttore generale di Duca di Sarapparuta, azienda storica nel settore del vino e accanto a me c'è Alfredo Zini che è vicepresidente di Fipe, al quale lascio la parola per un breve saluto. Grazie direttore, buongiorno a tutti, a me è il compito insomma di ringraziare i relatori per la loro disponibilità e naturalmente tutti i partecipanti a questo convegno. Ci auguriamo noi come Fipe che possa essere da stimolo per un settore importante come quello dell'esercizio il ruolo dell'epi hour. Io arrivo dalla città che è Milano che è stata all'avanguardia e che è all'avanguardia insomma per gli stili di vita e per l'approccio in Italia di questo settore specifico dell'epi hour. Si è passati dall'aperitivo tradizionale del Martini, del Peter, del Barbaro Zucca a un epi hour strutturato dove naturalmente ha creato dei problemi soprattutto a una fascia di ristorazione perché naturalmente con l'avvento dell'epi hour si è dato a creare un danno nella ristorazione tradizionale. Ci auguriamo insomma dal dibattito di oggi che il ruolo invece del pubblico esercizio ma soprattutto visto dal punto di vista dell'epi hour possa essere trenante per tutto il comparto, per il comparto in generale della ristorazione. ci auguriamo che i prodotti che favoriscono i giovani perché sono i maggiori frequentatori di questi locali che offrono dei prezzi cambierati a far sì che insomma il nostro mondo possa dare delle risposte in termini di qualità e in termini di stile di vita migliore. Grazie Alfredo, io comincerei da Mauro Lamparelli di Trade Lab perché Trade Lab monitora ormai da molti anni il mondo dei consumi al bar e nella ristorazione e sicuramente può darci il supporto di qualche indicazione sull'evoluzione dell'epi hour o dell'aperitivo o dell'apericena. Vedremo anche nel corso del dibattito quali sono le forme che questo momento di consumo sta assumendo e quindi lascerai la parola a Mauro Lamparelli per alcune evidenze sul settore. Bene, grazie, buongiorno a tutti, piacere essere qua, io ho due parole proprio sul tema aperitivo. Sicuramente l'aperitivo è un'occasione di consumo importantissima in Italia, importantissima sia dal punto di vista del peso che ha sul totale delle consumazioni che si fanno fuori a casa, quindi tutto quello che è consumo dalla colazione per arrivare a dopo cena, quindi nel momento di consumo aperitivo è importante, importante anche per il livello di diffusione che adesso ha, sia in termini di locali, cioè il numero di diversi locali che viene fatta a questa occasione, sia a livello geografico. Naturalmente io parlo in questo caso di aperitivo serale, non sto parlando specificamente, come diceva prima il moderatore della pre-piaula per forza, dell'aperitivo lungo, dell'aperitivo corto, dell'apericeno, sto parlando dell'insieme di queste cose che poi sono differenziate per tipologia di locali, per target, eccetera. Comunque di aperitivo serale si parla perché l'aperitivo pre-pranzo, che forse è un costume che resisteva fino a qualche anno fa, adesso tende un po' a sparire, ci sono persone più esperte di me da questo punto di vista che possono confermarlo o meno, in alcune aree è stato sostituito per esempio dal branch, dal nord, dal nord-est, in altre aree non si fa perché c'è meno tempo, ci sono meno soldi, eccetera. Perché è importante? È importante perché da alcune analisi che abbiamo fatto, consulenze fatte su nostri clienti in cui serviva a stranare questi valori, stiamo parlando di almeno 14 milioni di persone che almeno una volta al mese fanno l'aperitivo, quindi stiamo parlando di numeri grossi, se poi considerate che questa stima è fatta non sul totale dell'universo, ma sull'universo 18-65 anni, quindi non sono compresi gli over 65 che sono, sembra paradossi dire, ma sono il futuro, pesano già una quota importante all'universo della popolazione. Stiamo parlando di 900 milioni di consumazioni, questo è un'idea che valgono più o meno l'8% di tutte le consumazioni che si fanno fuori casa che sono circa 10 miliardi. Importante è quel scontrino medio, stiamo all'intorno dei 6 euro, chiaramente il 6 euro è la media del pollo, cioè perché si va dal scontrino del bar classico tradizionale di giorno per arrivare al locale serale, la diura più o al discoteca, si è integrata anche con l'aperitivo dove superiamo abbondantemente 10 euro per tipologie diverse di aperitivo servito. Ed è importante anche da un punto di vista di momento di socializzazione, probabilmente dopo cena, soprattutto in una certa fascia d'età, non è più di socializzazione perché non c'è tanto lo spazio per, spazio, tempo, casino per parlare, l'aperitivo sicuramente fa socializzazione, l'aperitivo è un senso lato, permette socializzazione, il senso lato è pepe, da quello che si fa in locale friendly, a quello che si fa al passport, non c'è detto di questa cosa, dove la gente si trova, parla e consuma. Importante, dicevo, dal livello di diffusione che ha avuto una volta quando si fa in termini locali e una volta quando si fa l'aperitivo si parlava di bar, poi poteva essere il bar diurno, poteva essere il bar con tendenza serale, poteva essere un locale più trendy, però si fermava lì. Adesso senza delcare tutti i posti dove si può fare l'aperitivo, perché penso che sono più o meno noti, facciamo qualche esempio, il ristorante, il ristorante si sta integrando moltissimo a Monte con l'aperitivo a Vale per la tua cena, l'obiettivo è ottenere clienti in più di occasione di consumo fuori da quella cora che è naturalmente la cena. Ma pensate ai chioschi, tanto per fare qualche esempio, pensate agli stabilimenti barneari, pensate a tutti questi modi, pensate anche a luoghi che una volta neanche ci poteva sfiorare, il fatto di fare l'aperitivo, pensate a luoghi dove noi andiamo a fare shopping, parla a Colinda, Rinascente, piuttosto che le librerie Feltrinelli, adesso non possiamo fare l'aperitivo anche lì, oltre che nei posti più canonici, le discoteche pure, le discoteche pure adesso si mangiano, si mangiano e si fa anche l'aperitivo, quindi è importante da un punto di vista di fusione, sottolineare un punto sull'aspetto di fusione che è anche una cosa che si sta sviluppando, un po' ritorno al passato, farlo a casa di amici, attenzione che farlo a casa di amici è una cosa che noi notiamo che si sta sviluppando molto e non a caso molte aziende importanti hanno portato sul retail nella grande distribuzione dei prodotti monodose che rispecchiano, che sono sostanzialmente dei cocktail che vengono invece fatti dai barman fuori casa, quindi questo è un altro elemento da seguire perché questi sono consumi che trovano consumi ai locali fuori casa. Questo è un po' sostanzialmente la situazione, quindi poi ci sono altre cose, naturalmente di trend, però penso che questo sia il contesto dell'importanza di un'occasione di consumo come questa. Grazie Mauro, il tema della multicanalità mi sembra che sia abbastanza centrale in un momento di consumo come quello dell'aperitivo che coinvolge poi fasce di popolazione molto ampia dai giovani ai meno giovani e quindi il tema della concorrenza multicanale che toglie spazio ai luoghi deputati per il consumo di qualsiasi cibo sostanzialmente, perché non è solo l'aperitivo, è un tema che dovremmo avere sempre presente proprio per capire la complessità nella quale stiamo lavorando. Tu hai citato il tema della socializzazione come momento importante per il momento dell'aperitivo, cioè la socializzazione è una delle ragioni per cui si fa l'aperitivo, poi lo chiameremo happy hour per i cena, poi andremo a capire meglio come qualificare questo momento di consumo. E se parliamo di socializzazione credo che la palla possa passare ad Alessandro Caliandro perché la sua società va ad analizzare proprio il sentiment, il percepito, il vissuto dei consumatori riguardo a questo momento di consumo. E credo che abbia preparato anche una piccola indagine effettuata ad hoc che ci può essere d'aiuto. Allora, piccola premessa, io sono Alessandro Caliandro di Varadit, Varadit è una media company che si occupa di marketing online e come media company abbiamo anche sviluppato un servizio che si chiama metodografia, che comprende un team di ricercatori, qui c'è anche Massimo Roddi che mi ha aiutato in questa ricerca. In due parole, metodografia cos'è? Semplicemente metodografia dell'internet, ovvero un metodo molto qualitativo che si usa soprattutto nella ricerca di marketing che va a immergersi in maniera, diciamo, empatica nelle conversazioni del consumatore, per estrarre degli insight strategici. Quindi capite che è molto importante questo dato, è un dato naturale, cioè io non vado più a chiedere alle persone cosa pensi del campare, ma vado a vedere alle persone naturalmente cosa mi dico del campare. Come l'abbiamo sviluppata noi in questi anni la metodografia, Varadit è un mix di metodi quantitativi e qualitativi, questo è molto importante, inizialmente nasce come uno strumento iperqualitativo. Quello che voglio farvi vedere oggi è una microanalisi che abbiamo fatto al volo sulle tendenze di consumo legate all'aperitivo e sull'identità che i consumatori esplicano attorno all'aperitivo. Abbiamo raccontato vari dati, un po' di dati da Twitter, vedete che abbiamo cercato di ricostruire tutto l'universo di questo tipo di consumo, c'è prossimo relato.